Sarà una manifestazione improntata ovviamente a temi natalizi della nostra migliore tradizione. Ogni pezzo verrà brevemente spiegato, anche dal punto di vista storico, come introduzione. Nell'intervallo verrà letta la poesia di Giovanni Pasco di Notte di Natale. Il titolo del concerto è Cristi Nativitatis Sinfonia. E' un omaggio naturalmente alla nostra tradizione religiosa della nascita del Gesù Bambino. Un concerto che replicherete in questo periodo natalizio? E' un concerto che in parte replicheremo il 21 alle ore 16 all'Istituto Serraino Ulpitta per gli anziani ospiti. E poi il 28 replicheremo interamente alla chiesa di Sant'Alberto, al rione Palme, per omaggiare anche quest'altra parte della nostra città.